Foibe, oggi è il giorno del ricordo, 20.000 vittime, 250.000 esuli, una tragedia italiana. L'alta velocità attraversa il Vallo di Diano, il progetto potrebbe non essere utopia, l'idea di rete ferroviarie italiane. Polla, oggi il sopralluogo del genio civile dopo la frana di un argine del Tanagro. Dirigenza bancaria, Antonio Mastrandrea nel comitato di redazione, ciò che la rivista darà a me io cercherò di trasferirlo al territorio. Monte San Giacomo avrà una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici, partiti i lavori. Buonasera e bentrovati con il nostro telegiornale. Oggi è il giorno del ricordo dedicato alle vittime delle Foibe e all'esodo istriano Giuliano Dalmata. 20.000 vittime e 250.000 esuli, una tragedia tutta italiana per troppo tempo dimenticata. Dal 2004 in Italia, il 10 febbraio, è il giorno del ricordo delle vittime delle Foibe, gli italiani uccisi per mano delle milizie jugoslave di Tito durante e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale e dell'esodo istriano Giuliano Dalmata in seguito al Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio del 1947. 20.000 gli italiani uccisi tra il 43 e il 47, 250.000 gli esuli. È una delle pagine più dolorose del nostro passato, con cui il nostro paese fatica a confrontarsi, costringendola per decenni alla dimenticanza. Tutte le vittime hanno il diritto di vedersi riconosciuta la verità. Gli infoibati non sono stati pochi, non erano solo fascisti su cui vendicarsi, non hanno rappresentato storie private avulse dalla storia, hanno solo pagato lo scotto di averla vissuta dalla parte sbagliata. Da alcuni anni è stato squarciato il velo di oblio su quegli eventi drammatici e se ne parla in occasioni dedicate per ricordare le vittime e i carnefici. Senza reticenze si deve citare il comunismo a proposito delle Foibe, in cui sono stati gettati fascisti e antifascisti, uomini di chiesa, anziani, donne e bambini. E anche il Vallo di Diano è stato colpito. Tra le vittime delle Foibe c'è l'agente di polizia tegianese Giuseppe Morello, a cui il comune di Teggiano, retto da Michele Di Candia lo scorso anno, ha intitolato una strada. Così come a Montesano sulla Marcellana nel 2014, l'amministrazione comunale guidata da Donato Fiore Volentini, su iniziativa dell'allora assessore alla cultura Giuseppe Rinaldi, decise di intitolare una strada nella frazione di Arena Bianca al tragico evento. Andiamo avanti e cambiamo argomento. realizzare una nuova tratta che attraversi il Vallo di Diano per velocizzare i tempi di percorrenza tra Roma e Reggio Calabria. Il progetto è stato ideato da Reti Ferroviarie Italiane, che lo ha illustrato in audizioni in Commissione Ambiente e Trasporti Riuniti. L'alta velocità, alta capacità dovrebbe attraversare tutto il comprensorio. Tempi di realizzazione stimati in cinque anni. Vediamo. Il Vallo di Diano è individuato come area strategica per velocizzare i tempi di percorrenza ferroviaria da Roma a Reggio Calabria, tanto che Rete Ferrovie Italiane ha deciso di puntare sulla realizzazione di una tratta ex-novo, ritenendolo anche strategico per il potenziamento anche di altri collegamenti. Lo scorso 3 febbraio si è tenuta l'audizione dei vertici e dei commissari di Rete Ferrovie Italiane per la presentazione alle Commissioni Riunite di Ambiente e Trasporti dei progetti predisposti per la programmazione per un miglioramento infrastrutturale del territorio italiano. Si tratta di un'ipotesi, ma che potrebbe davvero vedere la luce, date anche le motivazioni adotte dalla nuova amministratrice delegata e direttrice generale di RFI Vera Fiorani, che è anche il commissario per la realizzazione dell'opera sul tratto Salerno-Reggio Calabria. Nel corso dell'audizione il progetto è stato tra i primi ad essere illustrato dalla direttrice generale Fiorani, che ne ha anche esaltato le funzioni e l'importanza. Entro fine febbraio dovrebbe essere pronto lo studio tecnico-economico del progetto che dovrebbe definire il costo dell'opera, che pare potrebbe aggirarsi intorno ai 9 miliardi e 800 milioni, ed anche la definizione di come proseguire nel progetto di realizzazione e nella programmazione degli interventi. Secondo quanto illustrato dalla dottoressa Fiorani, il progetto, la cui definizione è prevista per fine anno, dovrebbe essere suddiviso in tre lotti, Salerno-Battipaglia, Battipaglia-Praia, che attraversa il Vallo di Diano, ed infine la nuova Galleria Santo Marco. Di particolare interesse è proprio il tratto centrale, che riguarda anche il Vallo di Diano, individuato come strategico, in quanto sul tratto di strada ferrata vengono anche previsti collegamenti con altri progetti inseriti nella stessa programmazione presentata nella seduta in Commissione riunita allo scorso mercoledì 3 febbraio, e che dovrebbe collegare Battipaglia a Potenza e a Taranto. Secondo quanto spiegato dall'amministrazione delegata di RFI, l'opera, che dovrebbe essere conclusa entro il 2026, data entro cui gli interventi devono essere chiusi tutti, come da previsione della Programmazione Nazionale per le Infrastrutture, è fondamentale per ridurre le distanze temporali tra Roma e Reggio Calabria, che potrebbe essere percorsa in 4 ore e 15 minuti, riducendosi ulteriormente di quasi un'ora nel caso in cui vengano eliminate le fermate. È chiaro che si è solo alla fase di progettazione e di idea, ma la certezza che sia proprio RFI a voler puntare sull'attraversamento del Vallo di Diano, della tratta ferrata, ritenendo la strategica e determinante per ridurre il gap infrastrutturale del mezzogiorno e i tempi di percorrenza per attraversare l'Italia da nord a sud, trasmette un pizzico di fiducia in più. Andiamo avanti. Il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla SRA di Polla contro la richiesta avanzata dalla regione Campania di riportare in Italia ben 12.000 tonnellate di rifiuti, ferme da mesi nel porto di Susi in Tunisia, dopo spedizioni autorizzate, perché ritenuti illegali. Ne dà notizia l'avvocato della società, Francesco Avagliano, affermando che l'inammissibilità del ricorso è avvenuta per un presunto difetto di giurisdizione. Stiamo già predisponendo appello al Consiglio di Stato, ha specificato. Nei giorni scorsi la RSA ha tenuto una conferenza stampa a Polla per l'appunto con l'obiettivo di fare chiarezza sulla vicenda al fine di venire a capo di una questione, quella del blocco dei rifiuti presso il porto di Susi in Tunisia per l'appunto, nella quale la SRA ritiene di essere stata inserita in maniera ingiusta ed immotivata. Cambiamo argomento, è previsto oggi a Polla il sopralluogo del genio civile dopo la frana di un'argine del fiume Tanagro. Il sindaco Massimo Loviso ha subito allertato gli organi competenti per chiedere degli interventi di somma urgenza. È monitorato il fiume Tanagro a Polla dopo la frana di un'argine che si è verificata sabato scorso, in seguito alla quale il sindaco Massimo Loviso ha scritto una lettera a diversi enti, tra cui il genio civile di Salerno, la regione Campania e la protezione civile regionale per segnalare la situazione di potenziale pericolo per la popolazione. Franando l'argine del fiume Tanagro ha provocato il crollo di un vecchio muro di contenimento posto sotto la linea ferroviaria, alto circa 10 metri. Il materiale franato, composto da pietre del muro e da una notevole quantità di terreno, ha occluso il corso del fiume per circa un terzo. Inoltre, due tronchi di alto fusto franati si sono posizionati orizzontali e trasversali al corso d'acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile di Polla. Proprio un volontario, ha raccontato il sindaco, è sceso nel letto del fiume per tagliare i tronchi che occludevano il passaggio delle acque. Una situazione che rischia di aggravarsi se dovesse staccarsi una ulteriore porzione dell'argine che si presenta a vista come terreno estremamente friabile. Il fiume dunque continua ad essere monitorato e nella giornata di oggi, ha spiegato il sindaco Loviso, è previsto un sopralluogo da parte del genio civile di Salerno che è l'ente competente, quello che allarma è il corso del fiume che già è sondato negli ultimi giorni di gennaio, provocando danni a numerose abitazioni. Con nuove piogge, ha concluso il primo cittadino, la franna potrebbe causare ulteriori seri danni e gravi pericoli per la pubblica incolumità, dunque si chiedono interventi di somma urgenza. Ed ora una notizia sul fronte contagi da Covid. Risultato positivo al test il direttore generale della BCC di Buonabitacolo, Angelo De Luca. Ricostruita già la rete dei contatti, eseguiti i controlli e le sanificazioni. Sto bene anche se sono sintomatico, spero di riuscire a superare presto questa difficoltà, invitando davvero tutti a prestare la massima attenzione. Ieri l'esito dei tamponi che ha confermato la positività anche di due altri dipendenti di Buonabitacolo dell'Istituto di Credito. Da subito è stata attivata la procedura di controllo attraverso la somministrazione di tamponi a tutti i dipendenti che sono risultati negativi e contestualmente sono stati sanificati locali di tutte le agenzie della BCC di Buonabitacolo. Rassicuro tutti i nostri clienti e tutti i nostri soci che la situazione è sotto controllo, aggiunto il direttore De Luca. Per fortuna i nostri dipendenti e collaboratori sono tutti negativi ai test e dunque le attività della nostra banca proseguono regolarmente e nel massimo della sicurezza per chi si reca ai nostri sportelli. E ora capitolo scuola. Dalla Regione Campania è arrivato il Via Libera. A sindaci e prefetti in riferimento alla decisione per l'apertura o per la chiusura delle scuole in merito alla questione contagi, una posizione neutra che ha spinto il Comitato Provinciale Scuole Aperte a presentare delle precisazioni nel merito, rimarcando come a livello nazionale le attività didattiche in presenza vanno tutelate e assicurate il più possibile. Vediamo. Dall'unità di crisi della Regione Campania dopo aver annunciato l'intenzione di valutare una possibile nuova chiusura delle scuole nella serata di ieri ha lasciato libero arbitrio a sindaci e prefetti nella decisione. Insomma, ogni realtà locale decida per sé. Al diffondersi della notizia si è subito attivato il Comitato Scuole Aperte che in virtù dell'ampio spazio d'azione lasciato a sindaci e prefetti ha voluto ricordare quelle che sono le regole imposte a livello nazionale sul tema. Con una nota stampa il gruppo che si batte da mesi per il mantenimento delle attività in presenza ha precisato come la nota dell'unità di crisi diramata nelle scorse ore non altera le disposizioni vigenti emanate in materia scolastica e soprattutto non altera le funzioni demandate a sindaci riconosciute dal testo unico degli enti locali. Il comunicato, scrivono dal gruppo, non ha in alcun modo modificato le disposizioni normative vigenti in Italia, in Campania in tema di contrasto alla diffusione del Covid né tanto meno ha conferito poteri ulteriori o speciali ai sindaci. Rimarcando quindi come i primi cittadini devono operare nell'ambito esclusivo delle loro competenze riportano anche una sentenza del Tar che ha ricordato come disposizioni diverse da quelle previste dai DPCM in materia scolastica possono essere modificate solo nel caso in cui si verifichino eventi effettivamente contingibili ed imprevedibili cosa che non riguarda la situazione attuale precisano dal Comitato. La chiusura delle scuole, scrivono in una nota, non può continuare a essere la sola misura di contenimento del Covid in Campania non è possibile che l'unico diritto compresso sia ancora una volta quello dell'istruzione. Se la situazione sanitaria si fosse davvero tanto aggravata, continuano come l'unità di crisi afferma allora sarebbe necessario che assieme alle scuole chiudessero anche gli uffici gli esercizi commerciali le chiese, i bar e i ristoranti. L'andamento dell'epidemia nella nostra regione però è tale da farla rimanere per il momento ancora zona gialla. Auspichiamo, concludono che i sindaci incaricati di amministrare le nostre comunità operino con senso di responsabilità ed equilibrio monitorando con attenzione la situazione nei vari territori e senza assumere provvedimenti sproporzionati o irrazionali contro i quali ovviamente agiremmo con tutti gli strumenti legali disponibili. Intanto a Sassano nella mattinata pare sia stato accertato un nuovo caso di contagio da Covid tra gli alunni delle scuole medie. Ed ora una notizia di cronaca nella tarda serata di ieri la Guardia di Finanza di Salerno ha arrestato un trentenne di baronissi colto in flagranza del reato di concussione per induzione mentre riceveva indebitamente la somma di 2.000 euro da un imprenditore edile. Il titolare dell'attività economica ha in corso presso l'ufficio esecuzione immobiliare del Tribunale Civile di Nocera Inferiore una procedura esecutiva nell'ambito della quale gli sono stati pignorati cinque immobili. Le indagini hanno contestualmente permesso alla Procura della Repubblica di emettere due decreti di fermo nei confronti del custode giudiziario e del consulente tecnico d'ufficio nominati dal locale tribunale nell'ambito della menzionata procedura. Cambiamo argomento Antonio Mastrandrea responsabile della segreteria della direzione generale della Banca Montepruno nonché responsabile della comunicazione dell'istituto di credito nei giorni scorsi ha ricevuto un grande riconoscimento per il lavoro svolto negli anni diventando membro del comitato di redazione della nota rivista di settore dirigenza bancaria una rivista prestigiosa ed utile soprattutto in questi anni in cui le novità anche per il settore bancario si moltiplicano e dove l'informazione deve essere quindi attenta e capillare. Antonio Mastrandrea raggiunto da noi per un'intervista parla della rivista e sottolinea soprattutto come oltre a portare la sua esperienza nella rivista lavorerà anche per raccogliere esperienze utili da trasferire al territorio ascoltiamolo sicuramente è un importante riconoscimento quello che ho ricevuto in questi giorni è che il direttore albanese con un bellissimo messaggio ha voluto salutare e abbiamo comunicato un po' all'esterno dirigenza bancaria rappresenta un'importante rivista un'importante rivista del settore un giornale con il quale si cerca di fare aggiornamenti su tutto ciò che riguarda il mondo della banca della finanza al management all'innovazione quindi è una rivista anche molto prestigiosa questa di cui stiamo parlando di cui è direttore responsabile il dottor Ottone che arriva in diversi istituti bancari nazionali è sicuramente un risultato che va ascritto sicuramente alla banca Montepruno anche se sono io il diretto interessato di questo incarico però è bello mettere soprattutto in evidenza come sia il risultato di un istituto di credito che nel corso degli anni ha fatto tanto sicuramente per quel che riguarda l'aspetto bancario ma significa che si è lavorato tanto e bene anche sotto altri ambiti io logicamente farò il possibile per poter essere all'altezza ma per me sarà anche un momento di grande confronto soprattutto con le importanti professionalità che fanno parte del comitato di redazione di questa rivista quindi per me sarà un inizio di un qualcosa di nuovo che cercherò dalla quale cercherò di apprendere ogni piccolo passo anche perché ho la fiducia della banca ma soprattutto va sottolineato che riesco a farlo grazie ad una persona che ha avuto fiducia in me e che mi ha dato la possibilità di fare questo passo e sai benissimo che il mio riferimento è al direttore albanese il quale mi ha dato mi ha dato sempre fiducia e soprattutto poi il messaggio importante che si collega anche un po' a quello che dicevi prima è collegato anche a dare fiducia ai giovani perché io credo che spesso si parla tanto di questo concetto dei giovani della fiducia eccetera ma poi concretizzare un qualcosa del genere non è mai facile poi stamattina in occasione di questa breve intervista ho portato anche un numero di dirigenza bancaria che questa è la rivista dalla quale si possono si possono trarre tutta una serie di novità di natura generale che va sul mondo che va nel mondo delle banche parliamo anche per esempio di un tema molto importante come quello che può essere l'innovazione cioè tutto ciò tutto quello che sta succedendo oggi soprattutto per quel che concerne le limitazioni che tante persone hanno e quindi evitano di recarsi fisicamente in banca e quindi tutto il processo che riguarda questo tipo di attività ma poi ci sono tutta una serie di spunti connessi ad esempio l'antiriciclaggio si parla del processo di innovazione che stanno subendo le banche quindi è una rivista diciamo che impreziosisce con il suo lavoro quella che è la conoscenza da parte di tutti quanti gli operatori bancari quindi è evidente come si tratta di un documento di una rivista molto molto importante e di cui quindi diciamo vado anche un po' orgoglioso per questo a questo punto prestigioso incarico che mi è stato conferito Allerta meteo prorogata sino a domani mattina alle ore 12 dalla centrale operativa della protezione civile è stato diramato un nuovo bollettino meteo che parla di criticità gialla per le aree della Piana del Sele Alto e Basso Cilento e per la zona del Tanagro si prevedono temporali di forte intensità e venti molto forti in alcuni casi tendenti a raffiche rischio idrogeologico con il possibile verificarsi di frane superficiali con colate di fango e di detriti possibili anche rischi di allagamento dalla centrale operativa quindi raccomandano massima attenzione in particolare nelle aree che sono al momento indicate come criticità arancione dove i rischi di frane e allagamenti sono più elevati ora invece noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria però torniamo tra pochissimo con tutte le nostre notizie a tra poco ben ritrovati con la seconda parte del nostro telegiornale il parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni è il migliore d'Italia nella classifica di travel choice dedicata ai parchi nazionali d'Europa si piazza al decimo posto per la punta in Europa unica eccellenza nazionale nella top 10 europea di TripAdvisor scelto e votato dai viaggiatori milioni di utenti di TripAdvisor attraverso le opinioni e recensioni dei viaggiatori hanno disegnato il parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni come migliore parco d'Italia nella classifica Traveler's Choice 2021 dedicata ai parchi nazionali più apprezzati d'Europa il parco si piazza al decimo posto in Europa ed è l'unica eccellenza nazionale a far parte della top 10 europea di TripAdvisor scelto e votato dai viaggiatori sono orgoglioso di questo prestigioso riconoscimento dichiara il presidente del parco Tommaso Pellegrino per chi a determinarlo non sono enti astratti ma il giudizio della gente che ha visitato il nostro territorio apprezzandone lo straordinario valore paesaggistico ambientale e culturale al primo posto nella classifica c'è il parco nazionale del Regno Unito seguito da quello dell'Islanda poi da quello della Croazia al quarto posto ci sono due parchi del Regno Unito seguiti da due parchi in Spagna all'ottavo posto invece c'è un parco della Turchia e al nono ancora un parco della Spagna fare un salto indietro nel tempo e immaginare l'Italia del 550 a.C. diventa possibile nel Cilento area che ospita i resti di due antiche città greche Pestum e Belia per un viaggio nel passato più recente vista la Certosa di Padula un monastero certosino patrimonio mondiale dell'umanità che risale al 1306 ed è rinomato per l'architettura in stile barocco con le sue ampie viste sul mare e i complessi di grotte profonde come le grotte di Castelcivita anche il paesaggio del parco rievoca queste epoche remote e la didascalia presente sul sito di TripAdvisor una medaglia d'oro meritatissima dunque che premia il territorio del parco e le sue bellezze naturalistiche culturali ed enogastronomiche a Monte San Giacomo sono partiti questa mattina i lavori per l'installazione di una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici in piazza Sandro Pertini andiamo a vedere Novità importanti a Monte San Giacomo sono partiti questa mattina i lavori per l'installazione di una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici in piazza Sandro Pertini davanti all'edificio delle scuole si punta sulla tutela dell'ambiente e sul risparmio energetico dal dicembre 2018 il comune ha aderito alla proposta della società Enelix Mobility di un protocollo d'intesa per la realizzazione di un'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici sul territorio comunale nel settembre dello scorso anno è arrivata la richiesta di autorizzazione per l'esecuzione dei lavori il via libera dal comune giunge a dicembre ritenendo l'amministrazione di offrire un servizio utile ai cittadini e contribuire alla diminuzione dell'inquinamento Enel con l'accordo si impegna a propria cura e spese a realizzare l'infrastruttura a provvedere al mantenimento quindi toccano alla società l'installazione l'attivazione la manutenzione ordinaria e straordinaria e il comune che mette a disposizione della società l'area pubblica individuata per un periodo di otto anni non avrà alcuna spesa Monte San Giacomo non è l'unica realtà diversi comuni dei comprensori del Vallo di Diano e del Tanagro che si stanno preoccupando della trasformazione green del territorio accompagnando con tale iniziativa i cittadini a cambiare abitudini con l'utilizzo sempre più diffuso dei mezzi a impatto zero un segnale concreto dell'interesse per il rispetto dell'ambiente per la salute dei cittadini stessi Andiamo avanti a Moio della Civitella un compleanno da record Nonna Rosa ha festeggiato infatti i suoi 110 anni Compleanno da record nel Cilento che si dimostra sempre più terra di longevità a Moio della Civitella Nonna Rosa ha infatti compiuto 110 anni e ha festeggiato la presenza del sindaco Enrico Gnarra che ha portato gli auguri di tutta la comunità con una torta e una targa dell'Università Popolare del Cilento di Torri Orsaia che l'ha accolta nella propria accademia con un 110 con l'oda esistenziale Nata a Moio della Civitella l'8 febbraio del 1911 Rosa De Vita ha vissuto le due guerre mondiali e l'avvento della democrazia il primo sbarco sulla luna ed ultimo una pandemia Ha trascorso la sua vita genuinamente racconta il sindaco Gnarra nell'armonia che solo un piccolo paese legato ai valori tradizionali della campagna sa dare si è sempre occupata della famiglia attraverso il duro e quotidiano lavoro nei campi che le ha permesso di garantire un piatto a tavola ogni giorno anche in assenza dei propri cari emigrati verso il nuovo continente a metà del secolo Oggi Nonna Rosa racconta il primo cittadino vive serenamente tra le stesse mura che di tutti quei sacrifici sono testimoni con il figlio la nuora e i nipoti eseguendo con puntualità tutti i suoi rituali di sempre dal vestire il letto autonomamente con le lenzuola ricamate parte del suo antico corredo alla preghiera rivolta alla santa patrona di Moio della Civitella infine il sindaco ha rivolto un pensiero di gratitudini a Nonna Rosa per il suo esempio di vita bontà laboriosità semplicità e saggezza rappresenta per la nostra comunità ha concluso motivo di gioia e di orgoglio nonché una luce di speranza per tutti ed ora lo sport con il calcio il terzo pareggio in altrettante gare del girone di ritorno per la Salernitana a Pisa è 2 a 2 i Granata si posizionano così al terzo posto in solitaria il tecnico Castori plaude lo spirito battagliero dei suoi ascoltiamolo siamo stati un po' superficiali e prende il primo gol su una palla inattiva sul calcio d'anco insomma siamo andati sotto in maniera un po' leggera poi c'è stato questo secondo gol che è stato bravissimo attaccante loro a girarle in rete però non ci siamo versi d'animo oggi avevamo lo spirito giusto di chi vuole fare il risultato per forza e abbiamo saputo rimontare comunque finendo la partita in crescendo ho sempre detto che quest'anno il campionato oltremodo ha oltre a essere molto equilibrato siccome dura due mesi in meno e si creano queste situazioni che giocando ogni tre giorni una squadra può perdere condizione può pagare la fatica bisogna avere una rossa ma poi anche la rossa ci sono dei giocatori che sono insostituibili perché qualunque squadra ha quei 5 o 6 giocatori dai quali è un po' percintra quindi è un po' l'incertezza che regna Sovrano in un campionato come questo è tipico di questo campionato non bisogna meravigliarsi secondo me bisogna essere bravi essere costanti mantenere sempre la condizione giusta e comunque quando non si può vincere è meglio pareggiare che perdere non posso che rivedere quello che ho detto al suo collega perché le partite le avvicinanti creano queste situazioni di scompenso quantomeno a livello anche di condizione di attenzione di tutto di stanchezza noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo fino a 0 nella ripresa la cosa che posso imputare ai ragazzi che avevano preso un corso una palla inattiva che in quel momento il PIS non è che avesse fatto qualcosa per andare in vantaggio è stata un po' la nostra leggerezza che loro hanno saputo capitalizzare poi c'è stato un momento così un po' di spandamento abbiamo subito un po' l'area diciamo ecco questo questo momento in cui il Pisa si è caricato si è casato che era andato in vantaggio ci ha messo qualche difficoltà però ecco abbiamo preso il secondo gol non ci siamo persi di coraggio abbiamo saputo rimediare una partita che comunque secondo me ha denotato quello che ha detto lei prima che comunque questa squadra non vuol mollare mai vuol portare a casa il risultato a prescindere quindi oggi ci siamo riusciti siamo molto contenti di questo in 90 minuti è normale che possano esserci dei minuti in cui si concedono agli avversari perché ci sono anche loro in campo noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo un po' sono venuti fuori loro nel secondo tempo un piccolo calo ma io secondo me più che un calo è stato il fatto che abbiamo preso un gol sulla palla inattiva lì il gol non dovevamo mai prenderlo il Pisa non aveva fatto nulla per andare in vantaggio c'è un po' così diciamo spento poi però ci siamo ripresi abbiamo finito in crescente una squadra che finisce in recupero in quella maniera come abbiamo fatto noi una squadra che ha condizioni a salute se no non ci arrivi a giocare gli ultimi minuti con quel ritmo E con lo sport si conclude questa edizione serale del nostro telegiornale io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione